Jobs Act for Land va rivista alla norma sui licenziamenti collettivi, industria, produzione, segnali di ripresa, CISL, servono investimenti, bancari, FIBA, sciopero 30 gennaio, abbi indisponibile al confronto. Un saluto a tutti e bentrovati a questa nuova edizione della TG CISL. Il decreto attuativo della Jobs Act sul contratto a tutele crescenti va rivisto a partire dalla norma sui licenziamenti collettivi. Lo ha detto questa mattina Anna Maria Furlan in occasione del seminario che la CISL ha dedicato alla riforma del mercato del lavoro attualmente all'esame delle Camere. Sul tema siamo pronti a riprendere il percorso unitario con gli altri sindacati, fa sapere la numero 1 di Via Po che intanto indica quali sono le priorità che la CISL indicherà in sede parlamentare. Sentiamo allora la Furlan e subito dopo il segretario confederale Gigi Petteni, organizzatore del seminario di oggi, a seguire gli altri servizi. Per la CISL vi sono alcune questioni assolutamente prioritarie. La prima in un paese che ha oltre un milione e mezzo di precari se il contratto a tutele crescenti davvero racchiuderà e annulerà in sé le tante tante precarietà che abbiamo. Tante false partite IVA, tanti falsi co-co-pro, collaborazioni e cioè tanto falso lavoro autonomo, autentico lavoro subordinato, mal pagato e mal tutelato. Quindi la priorità è che il contratto a tutele crescenti non sia una forma contrattuale in più ma annulli le tante 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 precarietà che abbiamo. La seconda questione è ovviamente come accompagniamo attraverso politiche attive del lavoro vere, concrete, sostenibili e il lavoratore dà un posto di lavoro a un altro e il disoccupato a trovarlo finalmente il lavoro. Oggi la funzione importante che hanno gli uffici di collocamento, le politiche attive purtroppo non realizza un vero incontro tra domanda e offerta. Ne è in grado di aggiornare e dotare di nuove competenze il lavoratore che perde il posto di lavoro. Quindi sarà davvero fondamentale che i successivi decreti riescano a realizzare vere politiche attive del lavoro e poi l'allargamento delle tutele. Questo è stato una delle priorità espresse dal governo per la nostra organizzazione, è una priorità davvero da tanti tanti anni. Ma credo che adesso vogliamo iniziare un lavoro forte, incisivo sui decreti che il governo si appresta a varare. Devono avvenire delle modifiche rispetto a quelli che sono già in campo, in particolare noi chiederemo questo sui licenziamenti collettivi, qualche aggiustamento sul NASPI, soprattutto che abbia una durata anche oltre il 2016, ma soprattutto ci stiamo molto attrezzando sui prossimi decreti. La ricollocazione dei lavoratori deve essere una cosa estesa a tutti coloro che perdono il posto di lavoro. Gli ammortizzatori sociali devono essere universali attraverso il ruolo della bilateralità, costruire un sistema vero, serio di nuove protezioni sociali, così i lavoratori avranno meno paura e meno preoccupazione a spostarsi da un posto a un altro posto di lavoro. I dati della produzione e dell'Istat confermano un quadro ancora complicato per l'economia e per l'industria italiana. Ci sono indubbiamente segnali positivi sugli ordini e sulla ripresa dei fatturati, ma ci sono ancora molte situazioni che ci portano a dire che la recessione ancora è presente e che i risultati occupazionali non saranno al momento, non sembrano alla portata. C'è un dato importante, la conferma che sono gli investimenti che portano il lavoro viene proprio da Melfi. La Fiat ha fatto investimenti, il sindacato ha fatto accordi sindacali e sono arrivati la cancellazione, la risoluzione della gasintegrazione e mille nuove assunzioni a Melfi. Quindi il Governo, se vuole affrontare questa fase così complicata, non deve fare altro che mettere in campo un progetto di investimenti per l'economia e per l'industria del nostro Paese. Il 30 gennaio ci sarà lo sciopero nazionale della categoria dei bancari e il secondo sciopero nazionale dopo quello dell'ottobre del 2013 a sostegno di un'avvertenza che sembra non voler mai cominciare. In realtà l'ABI continua a disdettare il contratto e questa volta ha deciso di dare disapplicazione allo stesso a partire dal primo di aprile senza aver mai iniziato una vera trattativa. Noi vorremmo gestire una trattativa nell'interesse del Paese e non solo dei lavoratori bancari, una trattativa che difenda il contratto, che difenda l'area contrattuale, che difenda il reddito dei bancari ma che soprattutto difenda gli interessi del Paese e le necessità di sviluppo che il Paese ha. Ma purtroppo l'ABI non è disponibile, la visione miope dei banchieri ci porta a dover discutere soltanto su piccoli risparmi, piccoli tagli, del costo del lavoro, piccoli per le banche, enormi per i lavoratori, inaccettabili da parte nostra e inutili per il sistema bancario. Noi crediamo che la popolazione intera debba essere mobilitata per essere interessata a ciò che sta succedendo nel sistema bancario perché questo Paese non può rimanere senza un sistema al servizio dell'economia. E questo era il nostro ultimo servizio. Per tutti gli aggiornamenti e approfondimenti vi invito a consultare il sito della CISL e quello di conquista e del lavoro. Grazie per averci seguito, a tutti la nostra più cordiale e buonasera.